Continua il sondaggio di Sport Event, lanciato dal nostro grandissimo caporetettore Luca Espinosa, il vincitore del sondaggio ha lanciato un paio di settimane al suono, Vincenzo Falanca. Vincenzo, sensazione al termine della diretta? È stata una bella esperienza, anche perché diciamo che è la prima volta che partecipo a una trasmissione di calcio e spero di potervi partecipare anche in futuro. Al termine della diretta è intervenuto il mio sponsor e il gladiator Giacomo De Felice, che tu conosci benissimo perché segui le vicende della compagina di San Maritano. Il tuo pensiero è un in bocca al lupo al futuro San Maritano e poi al tuo tre dei campioni preferiti, Tommaso Manzo. Sì, un grandissimo in bocca al lupo alla squadra che sta lavorando bene e speriamo in un futuro prosperoso. Sempre Forza Sport Event. Sempre Forza Sport Event e Forza Gladiator.